Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare tutte le novità che ci sono arrivate a casa, grazie a Asmode Italia, che ringraziamo veramente di cuore per averci offerto tutti questi prodotti, e sono già ormai diversi anni, due, quasi tre anni, che collaboriamo, quindi è sempre un grandissimo onore. Partiamo da sinistra, almeno dalla mia sinistra, uno dei giochi più attesi di questo, andando verso fine anno, Ankh, della Kmon, un gioco che ricorda molto come meccanica ed è a Rasingsan, se vi ricordate quello ambientato nel Giappone feudale in cui i vari clan dovevano combattere per prendersi il favore imperiale e vincere la guerra, o comunque la supremazia politica sugli altri clan, questa volta ambientato nell'Antico Egitto, e andremo a doverci spartire la mappa dell'Antico Egitto e dell'Antico Regno nei panni di una delle divinità, quindi Sobek, per farvi un esempio, il Dea del Solerà, Anubi, Ibis, Horus e tutti gli altri, è veramente... Secondo me da qualche parte ci dovrebbe anche essere Sekhmet, la Dea Gatto, che mi pare di averlo visto, che poi era Bastet la Dea Gatto, se non erro, e Sekhmet tipo la Dea Tigre, qualcosa del genere. Comunque, è veramente un gioco spettacolare che vi porterò sul canale a brevissimo, tra l'altro vedrete direttamente nel giro di qualche giorno l'unboxing di quello che c'è dentro, perché ora gli unboxing li facciamo sempre separati, quindi il video unboxing è una cosa rispetto al cosa ne penso. Poi, qui davanti, il gioco di Harry Potter, qui di Time's Up, versione Harry Potter, quindi un gioco dove bisogna fare domande e cercare di capire quale sia la risposta che poi fondamentalmente in questi giochi è la parola o una delle parole di termini riportate sulle carte. Ed è molto interessante perché vi sfida, con un po' di nozionismo di fondo, vi sfida e vi dice vediamo quanto siete esperti sulla saga di Harry Potter. Molto carino. Qua al centro vedete, sposto un attimino questo qui un pochino più di lato, vedete insondabili. Vi dico la verità, fra tutti i giochi, fra tutti i giochi, a parte anche che è un mostro sacro, era quello che attendevo di più, perché l'hanno chiamato, nel bene e nel male, il Battlestar Galattica di Ambientazione Arkham Horror, quindi mitri di Howard Philip Lovecraft. E è molto interessante perché siamo a bordo di questa nave, nel classico viaggio, insomma, che ci si può immaginare nei primi del Novecento, e a bordo di questa nave ci saranno dei traditori che saranno o Dagoniani, i mezzi pesce, quindi servire di o delle profondità Dagon, che si insinueranno a bordo per distruggere la nave o comunque sabotarle e uccidervi, o cultisti umani. Quindi potreste essere o un mutaforma sotto mentite spoglie, o un cultista, o qualcuno dell'equipaggio. E nel buon stile, appunto, di Battlestar Galattica dovrete, qui in questo Arkham Horror insondabili, riuscire a sopravvivere o, se sarete la controparte, riuscire a non farvi beccare e portare a termine la vostra missione. Qui davanti, sempre parlando di Arkham Horror, il primo romanzo ufficiale di Arkham Horror, della saga, quindi anche qui i racconti di Lovecraft, che è molto interessante perché è il primo romanzo portato in Italia e tradotto di questa nuova collana in italiano sempre, ovviamente, da Asmod Italia, che ora portano anche romanzi, racconti e romanzi nella nostra lingua. Quindi fanno anche da editori, appunto, per romanzi e non vedevo l'ora. Quando ho visto che c'era questo, questo nel giro di due giorni lo scoppio, l'ho voluto subito perché, sinceramente, sono talmente belli i giochi della serie di Arkham Horror, tipo le case della follia, Arkham Horror insondabile, ho detto mi piacerebbe anche leggere qualcosa su questa ambientazione. E finiamo con l'ultima espansione, esposto un attimino a questo qui, uscita della serie di Sherlock Holmes, consulente investigativo, questa volta dedicato agli irregolari di Baker Street, quel gruppo di ragazzini orfani che collaborano con Holmes e lo aiutano in vari momenti a risolvere i casi. Infatti ci sono delle storie e dei racconti, anche negli altri giochi, nelle espansioni precedenti, dove Holmes lo dice, se non fosse stato per l'aiuto di questi ragazzini, magari il caso non sarebbe mai stato risorto. E a volte è carino perché Holmes affida agli irregolari di Baker Street dei casi a parte, proprio per farli risolvere a loro. Ovviamente cose dove non vadano a rischiare la vita o cose del genere, però sono ragazzini che fanno di tutto per seguire le orme e l'ombra del maestro Holmes. Molto interessante, ultima espansione, quando la precedente era quella di Jack lo Squartatore. Ragazzi, con tutti questi prodotti ci farò ovviamente un Cosa ne Penso e dei prodotti maggiori, ovviamente qui si parla soltanto di cose da leggere, qui si parla di carte e qui si parla di un romanzo, però dei prodotti più grandi, tipo in questo caso Hank e Insondabili, ci farò non più un video soltanto, ma due. Il primo sarà sempre un unboxing di presentazione e il secondo sarà proprio un Cosa ne Penso. Ragazzi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate e c'è tantissima alla Livornese ciccia al foo, per davvero, perché guardate quanti prodotti e se andate sul catalogo dell'Asmod e vi mettete paura per tutta la roba che sta uscendo. Ancora una volta grazie Asmod Italia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!